Il primo anno della Fondazione della Fondazione della Fondazione è stato un attimo per il l'esplorato. Mi scusate con voi perché non ho ancora imparato bene il francese. L'ultima del futbolista della Fondazione della Fondazione della Fondazione della Fondazione è stata un'ottima del primo anno della Fondazione della Fondazione della Fondazione della Fondazione Abbiamo tutti i titani. Abbiamo tutti i due raggiungi. Come mai nel primo tempo Gio Cassimo? C'è un'entrazione del Senegal. Abbiamo tutti i suoi seguimenti. Quindi la tecnica e la fisica è molto bene. Potremmo non lo sovrappone. Ma solo la tactica è che non lo sovrappone. Ma oggi abbiamo visto l'equipe di Pekino. Quindi non lo sovrappone. Abbiamo tutti i gruppi che avevano. Ma non lo sovrappone come il presidente. Quindi ho iniziato a parlato con lui. Ho iniziato a guardare i staff e il gruppo. Ho iniziato a riuscirne con cosa mi è un PC. Il potrebbe essere unico. Non ci si nozze le footballerà. Non ci si nozze le sport. Non ci si nozze le sport che è unico. Nozze le sport. riscono in francese.